Lo aveva promesso, lo ha mantenuto. Francesco Rucco esordisce col pugno duro e firma la sua prima ordinanza da sindaco, ampliando la zona rossa in cui è assolutamente vietata la sosta delle carovane nomadi. Non più solo le zone ovest ed est di Vicenza, Parc Bassano e Cricoli, Ferrovieri, Anconetta, Laghetto, Via Ragazzi del 99, Parco Città e Via Zamenhof, ma da oggi anche Riviera Berica e Fiera, zona industriale. Ci sarà un controllo capillare del territorio con l'esigenza anche gli eventuali sgomberi. La gestione dei nomadi a Vicenza è direttamente connessa a quella della sicurezza e alla lotta al degrado. Questa ordinanza però è solo il primo passo perché il sindaco conferma che il suo obiettivo è blindare tutta la città. Sì, l'auspicio e l'obiettivo è quello di fare un'ordinanza che riguardi tutto il territorio comunale. Dovremmo capire prima i presupposti di legge se ce lo consentono perché l'atto sia legittimo dal punto di vista giuridico. Sicuramente se sarà possibile lo faremo. Una risposta, quella di Francesco Rucco, che arriva dopo le segnalazioni dei cittadini anche attraverso Rete Veneta. Insomma, le tante battaglie portate avanti con i nostri servizi nei mesi scorsi, che avevano trovato l'appoggio di Francesco Rucco, allora consigliere comunale, oggi non sono state dimenticate dal Francesco Rucco, sindaco, che firma la sua prima ordinanza. Sì, nasce da alcuni servizi di informazione che avete dato voi, ma soprattutto dalle segnalazioni dei cittadini e quindi siamo intervenuti tempestivamente in occasione della scadenza dell'ordinanza che abbiamo prorogato quest'oggi.